Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Oggi siamo a Bari, precisamente in via Repubblica Napoletana. Immerso in un signorile complesso con ascensori, questo appartamento vi accoglie con un'eleganza senza pari. Offriamo in vendita un raffinato cinque vani, pluri accessoriato, con una vista mozzafiato sul mare che vi farà innamorare all'istante. Marcando la porta d'ingresso sarete accolti da un ampio e luminoso salone d'occhio, che si apre su un incantevole patio e terrazzo, regalandovi tramonti indimenticabili. La zona notte è composta da due spaziose camere da letto matrimoniali e una stanzetta, tutte con accesso al terrazzo circostante. I due bagni padronali, uno con vasca e uno con doccia, assicurano il massimo comfort e privacy. Nella zona giorno troverete un accogliente soggiorno-pranzo e un pratico angolo cottura, ideale per momenti di convivialità e relax. I pavimenti in pregiato parquet, massello e marmo conferiscono un tocco di eleganza, mentre le porti artigianali laccate e la porta d'ingresso garantiscono sicurezza e stile. L'appartamento è dotato di condizionamento, da parelle elettriche e riscaldamento autonomo, per un comfort su misura. Inoltre vi è la possibilità di acquistare un box auto. Completano questa proprietà esclusiva un magnifico terrazzo angolare a livello di circa 300 metri quadri, da personalizzare con arredi e piante ornamentali, per creare il vostro angolo di paradiso nel cuore della città. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere al massimo il fascino di Bari. Contattateci oggi stesso per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!